Un forte appello all'amministrazione attiva viene oggi inviato dalla Presidente di Italia Nostra, Avvocato Adele Falcetta, anche per conoscenza agli assessori designati, alla manutenzione urbana, al centro storico. L'Avvocato Adele Falcetta, nella sua qualità di Presidente di Italia Nostra, afferma come sono trascorsi ben 15 anni da quando la nostra associazione organizzò un'iniziativa dal titolo Piazza Ravanusella e dintorni, volta a sensibilizzare la situazione di degrado in cui versava questa piazza storica della nostra città. In tale occasione vennero fatte delle proposte concrete per il recupero della piazza e delle zone vicine. Da allora in città alcune cose indubbiamente sono cambiate, ma la piazza Ravanusella resta sempre nelle stesse condizioni di allora. Anzi, a dirla tutta, il suo stato di degrado diventa ogni giorno più grave. Il crollo di ieri sera di una scalinata prossima alla piazza deve costituire l'ennesimo richiamo alla necessità di intervenire prima possibile adiacenti. Siamo ben consapevoli, afferma l'Avvocato Falcetta, del fatto che con questa amministrazione si è da poco insediata e proprio per questo vogliamo richiamare la sua attenzione sulla piazza Ravanusella come priorità. A tal proposito non chiediamo soltanto che vengono eliminate le situazioni di pericolo e che vengono ripristinate le condizioni di decoro. Pensiamo per esempio allo sprofondamento del mando stradale nell'area più esterna della piazza. Chiediamo soprattutto che per questo quartiere vi sia una progettualità ben definita con la previsione di tempistiche precise che possa segnare la rinascita urbana, estetica, sociale, culturale, una progettualità insomma che naturalmente sia rispettosa della memoria storica della piazza e delle zone adiacenti. Pertanto chiediamo all'amministrazione di conoscere se vi sia già un progetto per il suddetto quartiere, in cosa consisterà e relativi tempi per la sua attuazione. In mancanza di esso chiediamo che vengano subito avviate tutte le attività necessarie a pervenire a tale risultato.